Secondo il decreto attualmente in vigore, le scuole secondarie di secondo grado e una parte delle classi di quelle di primo grado dovrebbero rimanere chiuse fino al 3 dicembre, ma è ormai facilmente prevedibile che la riapertura non sarà immediata. Certamente il giorno 4 non si potrà riaprire tutte le scuole in tutta Italia, anche perché purtroppo le zone rosse non si stanno affatto riducendo. Al momento però è difficile fare previsioni precise. Nella giornata di ieri si sono rincorse notizie e smentite. Secondo un quotidiano nazionale infatti la ministra avrebbe parlato di scuole riaperte non prima di gennaio. Sempre, secondo la stessa testata, nel corso dell'estate Azzolina si sarebbe opposta ad un piano condiviso sui trasporti. La smentita non si è fatta attendere. Mai detto nulla di simile, ha replicato la ministra, che ha aggiunto, l'unica cosa scontata per me è che si sia tutti d'accordo a lavorare per riportare in classe tutti gli studenti che ora stanno facendo didattica digitale a distanza. Nel pomeriggio è arrivata anche una dichiarazione del ministro Luigi Di Maio che ha detto che Lucia Azzolina sta lavorando benissimo e che anzi ce la sta mettendo tutta aggiungendo anche che i media dovrebbero raccontare la verità e non creare confusione. Il fatto è che purtroppo la situazione non è affatto semplice perché le decisioni prese a livello nazionale vengono spesso riviste e corrette dalle regioni, in qualche caso persino dai singoli comuni e tutto questo non sempre è facilmente comprensibile alle famiglie. Comunque è ormai evidente che per riaprire tutto con una certa sicurezza sarà necessario predisporre un accurato piano per i trasporti e perfezionare ulteriormente il meccanismo degli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Intanto incominciano a diventare significativi alcuni problemi che sarà bene affrontare e possibilmente risolvere in tempi rapidi. Per esempio potrebbe essere necessario adottare già da adesso misure normative che consentano di salvare l'anno scolastico anche nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere il numero minimo di giorni e di ore di lezione. E non sarebbe male anche evitare di dover dire a maggio che tutti gli studenti saranno ammessi alla classe successiva, salvo casi eccezionali, così come è avvenuto nel 2019-2020. Lo scorso anno scolastico molti docenti sostenevano che la didattica a distanza non avrebbe consentito una valutazione equa degli studenti, ma quest'anno la situazione è diversa perché la didattica digitale integrata non è arrivata all'improvviso, ma anzi viene attuata sulla base di un apposito piano approvato dalla scuola stessa. Quindi si potrebbe stabilire già fin da adesso che le attività di didattica digitale prevedano momenti di valutazione degli apprendimenti degli studenti. su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche sul sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it, continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.